Gli scolmatori sono ancora in fase di collaudo, si stanno facendo le dovute verifiche di ancoraggio proprio in occasione di una mareggiata e di forti precipitazioni atmosferiche, pertanto il riaffioramento di una parte del tubo che portava oltre le scogliere le acque refluo era un'evenienza possibile e contemplata. I collaudi si fanno proprio per questo. Le parole del presidente di Aset, Paolo Reginelli, raggiunto da noi al telefono, chiariscono alcuni aspetti di questa delicata fase, di questo progetto unico in Italia, messo a punto in collaborazione con il Politecnico delle Marche, che come tutti i progetti pilota, è soggetto ad aggiustamenti in corso d'opera e modifiche proprio perché queste eventualità non si verificano in futuro. Il riaffioramento della tubazione aveva scatenato sia il web che anche le opposizioni sulla validità del progetto. Ma come tiene a precisare Aset, ora, dopo questa prova in campo, verranno fatti nuovi ancoraggi adù e verranno appositamente prodotti che riguarderanno la porzione di tubazione nel segmento iniziale della tratta, che era stata inizialmente solo zavorrata al fondo, proprio per verificarne il tipo di tenuta. Tutto contemplato nelle variabili del collaudo, ci dice il presidente. Niente di scandoloso, la tubazione è riaffiorata per le sacche d'aria che si sono formate al suo interno, prodotte sia dai liquidi che vi scorrono, sia per l'azione stessa delle pompe nella fase di espulsione. Ora, una volta terminati i nuovi ancoraggi, si deve aspettare che un'altra copiosa pioggia riempia i vasconi per un'ulteriore prova di tenuta, che andrà sicuramente bene, aggiunge Reginelli. Inoltre, siamo in via di definizione con Enel anche per l'allaccio dello scolmatore in zona go-kart, che potrà essere così anch'esso presto testato.